Inchiodateli su quella posizione, ragazzi! Ho visto scolarette che sparano meglio! Sto ricaricando, guardatevi le spalle! Inchiodateli su quella posizione, ragazzi! All'attacco! No! Buon balancio! Sì, sì, sì. Scusate! Andiamo di duro, ragazzi! Refa, bastardo! Bambalanchetta! 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 Ingradateli su quella posizione, ragazzi! Tanti addosso! Attaccate! Tanti addosso! Tanti addosso! Tanti addosso! Grazie a tutti! Sì! Non l'avete vinto! Via, via, via! Carica! Datemi addosso! Ora! Abbiamo messo in sicurezza la posizione! Prendete i sopravventi di questo settore! Guardate! Ora! Ragazzi! Attaccate, ruovetevi! Capiti trincetti! Scalato! 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 In piante, in questa seconda posizione, ragazzi! Davanti addosso! Ora! Tiriamo di fuori la meno rossale! Sto ricaricando, ragazzi! Bomba non c'è nato! Tenete in arrivo! Attaccate! 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 Sto ricaricando, ragazzi! Come spiegate! Sto ricaricando, ragazzi! Volevetevi, tratti di trincea! Volevetevi, tratti di trincea! Volevetevi! Perico! Dategli addosso! Ora! Sono nostri adesso! Dategli addosso! Ora! Attaccate! In quella posizione, ragazzi! Volevetevi! Vieni attacco! Torna indietro! Vieni attacco! 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 Non l'avete vinto, vedi trinceo! Non l'avete vinto, ragazzi! Non l'avete vinto, vedi trinceo! Non l'avete vinto, vedi trinceo! Non l'avete vinto, vedi trinceo! Vagli addosso, ora! Porta tra le linee e darti da fare! Non l'avete vinto, vedi trinceo! Vedi trinceo! Vedi trinceo! Vedi trinceo! Muoversi! Muoversi! Muovetemi! Vedi trinceo! In posizione, ragazzi! Stanno attaccando! Datemi addosso! Ora! Attaccate! Muoversi! Muovetemi! Attenzione, ragazzi! Lancio una granata! Muovetemi lanciato! Avanzato! Attenzione! 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 Muoversi! In questa posizione, ragazzi! Attenzione! Attenzione! Ho balanciato! Datemi addosso! Ora! Muoversi! con i giocatori! Non lo so! Non lo so! Ahahahahahah! Neon, venite addosso! Ora! Aspettate! In quella posizione, ragazzi! Caricaaa! Sto ricaricando ragazzi! Muovetevi, scopi di scena! Stategli addosso! Ora! Infiodateli su quella posizione ragazzi! Sto ricaricando 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 ragazzi! Sì! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!